laudetur jesus christus cari amici teleradioscoltatori e per luigi bianchi cagliesi vi parla oggi 12 marzo 2021 per il nostro commento del giorno non possiamo tacere nascondere quello che sta accadendo soprattutto in un disastro totale che sta causando sofferenze indicibili problemi inimmaginabili soprattutto ai bambini ai più giovani che in questa situazione ormai di oltre un anno che continua ininterrottamente a creare allarmi tensioni problemi di ogni genere sta recludendo progressivamente proprio i più piccoli nelle proprie abitazioni nell'impossibilità di avere una vita sociale normale di giocare tranquillamente con i propri amichetti con i propri compagni e nel vivere soprattutto in una dimensione di paura di terrore che si trasmette attraverso anche i social la televisione i mezzi di comunicazione e che produce naturalmente dei danni che umanamente parlando possiamo dire irreparabili proprio in questi giorni cari amici è apparsa una intervista interessantissima di sua eccellenza Monsignor Viganò a un giornale tedesco fatta da un autogiornalista che si chiama Moritz Sender che in cui Monsignor Viganò ha fatto un bilancio della situazione in corso e a un certo punto ha fatto una affermazione molto interessante che porta la vostra attenzione come diciamo introduzione alla questione diciamo che adesso toccherò che riguarda proprio i bambini cui dicevo Monsignor Viganò in questa intervista dice che il danno che si sta causando alla popolazione al mondo intero in questa situazione è enorme e per molti versi irreparabile dice Monsignor Viganò provo uno strazio indicibile nel pensare alle conseguenze devastanti della gestione di questa pandemia famiglie distrutte bambini e ragazzi colpiti nel loro equilibrio psicofisico e privati del diritto alla socialità anziani lasciati morire da soli nelle case di cura malati di cancro di patologie gravi completamente trascurati imprenditori costretti al fallimento fedeli ai quali sono stati negati i sacramenti l'assistenza alla messa ma questi sono gli effetti dice di una guerra non di una sindrome influenzale stagionale che se curata per tempo nei soggetti non affetti da patologie per i resse da una percentuale di sopravvivenza del 99,7 per cento ed è significativo dice Monsignor Viganò che questa folle corsa verso il baratro si ignorino anche i principi basiliari di una vita sana pur di indebolire il nostro sistema immunitario siamo confinati in casa tenuti lontani dalla luce del sole dall'aria pura e subire subendo passivamente il terrorismo mediatico della televisione una nota cari amici che ci fa riflettere con molta attenzione ma a conferma della gravità della situazione giunge proprio in questi giorni una nota che è stata appunto pubblicata dal responsabile della neuropsichiatria dell'ospedale bambin gesù di roma un ospedale che tutti voi conoscete specializzato proprio nelle nella cura e assistenza ai bambini e questo il dottor stefano vicari che è responsabile in neuropsichiatria dell'infanzia dell'adolescenza dell'ospedale pediatrico bambin gesù di roma che ha dichiarato che i tentativi di suicidio e autolesionismo sono aumentati in questi ultimi mesi del 30 per cento dice il dottor vicari che dal mese di ottobre ad oggi quindi con l'inizio della seconda ondata abbiamo notato un notevole rialzo degli accessi al pronto soccorso con disturbo psichiatrico nel 90 per cento in cui giovani tra i 12 e i 18 anni che hanno cercato di togliersi la vita sono l'indicatore di quello che sta accadendo e aggiunge che se nel 2019 gli accessi al pronto soccorso erano stati 274 nel 2020 abbiamo superato quota 300 mai come in questi mesi da novembre a oggi abbiamo avuto il reparto occupato al 100 per cento dei posti disponibili mentre negli altri anni di media eravamo al 70 per cento e dice ancora ho avuto per settimane tutti i posti letto occupati da tentativi di suicidio e non mi era mai successo al pronto soccorso si registra un ricovero al giorno per attività autolesionistica e continua il dottor vicari dicendo che stiamo assistendo di fatto a due fenomeni da una parte abbiamo gli adolescenti che per auto affermarsi diventano aggressivi avete letto di questi scontri che avvengono in questo periodo prima non accadevano così frequentemente che fanno cercano di fare del male agli altri fanno male ai genitori si tagliano diventano intrattabili e dall'altra abbiamo giovani che si chiudono al riccio vi ricordate quel fenomeno che già avevamo commentato che era chiamato dal termine giapponese ikikomori quindi dicevo un altro problema è quello dei giovani che si chiudono al riccio si rifugiano nel loro mondo nelle loro stanze e non sappiamo se avranno voglia di uscire fuori da questo guscio una volta che sarà passata la tempesta il fatto è che la pandemia sta facendo aumentare lo stress e lo stress facilita la comparsa di una serie di disturbi principalmente disturbi d'ansia disturbi del sonno e depressione aumentano per una serie di fattori prima di tutto c'è la paura di ammalarsi che bambini e ragazzi respirano dentro casa poi c'è l'assenza del gruppo dei coetanei che fa da ammortizzatore e dice ancora il dottor vicari che tra le attività di auto lesionismo c'è anche il tentativo di suicidio che è la seconda causa di morte per i giovani tra i 10 e i 25 anni dopo quella degli incidenti stradali e questo fenomeno sempre esistito ma da ottobre si è acutizzato si tratta principalmente dice di tagli negli avambracci nelle braccia nelle gambe molti ragazzini ci dicono che lo fanno perché si sentono attanagliati da un malessere psicologico ed è come se il male fisico li liberasse dal dolore interiore qualcosa vedete di veramente terribile ai ragazzi poi dice sempre dottor vicari è stato chiesto di fare uno sforzo enorme in questi mesi che è quello di allontanarsi dai propri compagni dalla propria routine da tutto quello che prima costruiva il loro mondo e chi ha gli strumenti giusti ovvero delle risorse economiche famiglie solide alle spalle può cavarsela ma chi vive in periferia in contesti poveri con genitori con rapporti conflittuali e per questi giovani la permanenza in casa non è facile sono costretti a cercare altre valvole di sfogo in questa emergenza i giovani sono stati dimenticati devono invece essere rimessi al centro dell'attenzione del mondo politico e non per il semplice fatto che saranno loro gli adulti di domani e conclude dottor vicari dicendo dobbiamo supportarli questi giovani questi bambini e dotare di strumenti per affrontare questo momento storico anche quei ragazzi che di risorse non ne hanno cari amici dei radioscoltatori preghiamo veramente il signore che intervenga prontamente soprattutto per salvare questi bambini che il signore salvi i suoi piccoli che il signore preservi i nostri giovani che il signore ponga ricondizioni per ribaltare la situazione presente e accelerare quel cambiamento radicale che ci condurrà perché è stato promesso infallibilmente dalla madonna fatima ci condurrà verso il trionfo benedetto del cuore immacolato di maria e l'instaurazione di una società che sarà esattamente l'opposto di questa situazione infernale in cui uomini senza scrupoli contro dio ci hanno voluto far precipitare per edificare un mondo che sia l'anticamera dell'inferno ma le forze degli inferi non prevarranno e alla fine il cuore immacolato di maria triunferà a voi tutti cari amici dei radioscoltatori augurio di una buona giornata laudetur jesus christus grazie a tutti